Grazie, grazie. Ciao, come stai? Qual è la parte più bella dell'animo di Martina? Qual è la parte più bella dell'animo di Martina? Non so, non so, mi piace molto aiutare i miei amici, essere fiei. Grazie. Martina. Allora, la chiamiamo tutti insieme? Al mio via, chiamiamo i... 3, 2, 1... Martina. Stresse! Tornare, torne, 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 torne. Pag. Come, come! Grazie a tutti Grazie a tutti